Ho deciso di intraprendere il protocollo in cima 21 perché ne avevo sentito parlare molto bene dalla mia ragazza e già ne vedevo i benefici su di lei. In un momento della mia vita in cui non avevo il desiderio di migliorare, di crescere, di cambiare e anzi regredivo, ho fatto la scelta proprio di intraprendere il percorso. Sono rimasto molto colpito dalle meditazioni che mi hanno fatto comprendere come poco usassi la mia immaginazione e non vedo l'ora di apprendere sempre più nuove informazioni. In questi 21 giorni sono riuscito ad avere una maggior calma, determinazione e una maggior fiducia nelle mie potenzialità. Vale la pena partecipare perché quello che mi ha dato il protocollo è un metodo e in questi tempi in cui vi è molta instabilità un percorso ben tracciato e ben condotto è fondamentale. Grazie a tutti!